partiti partita questa terza serie all'acqua 1 sotto riva in crade la regione toscana all'acqua 2 insorgiamo dragon boat e all'acqua 3 amici delle cucine un'acqua e un'acqua Ed ecco conclusa anche questa terza serie che ha visto al primo posto l'equipaggio del Kral della Regione Toscana mentre invece per il secondo e terzo posto aspettiamo il risultato del giudice giusto per correttezza. Allora il Kral della Regione Toscana rimane in barca. Grazie a tutti. Grazie a tutti.